Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Riprendiamo le trasmissioni dopo la pausa elettorale. Ospite della trasmissione è Domenico Spiniello. Domenico è un collaboratore della CGL, è sempre stato impegnato sul sociale e quindi io ti faccio subito la prima domanda. Dal punto di vista sociale, tu che hai un occhio particolare perché tutti i giorni ti confronti con le persone che vengono a chiedere nel tuo ufficio, che poi tra l'altro è all'Icusati, come è la situazione? Tu che hai un po' più il polso della situazione dal punto di vista proprio sociale, c'è una forte richiesta, c'è meno richiesta? Come stanno le cose nei nostri paesi e soprattutto nel nostro comune? Allora, caro Gianfranco e cari spettatori di Cilento TV, buonasera. Innanzitutto voglio ringraziarti per l'invito e ovviamente a te e a Cilento TV nella persona di Pietro Andrea per darmi questa possibilità insomma di potermi esprimere su queste tematiche che a me sono molto particolari. La tematica sociale è una tematica complessa, molto difficile anche a volte anche da parlarne. Per quanto riguarda la domanda specifica che mi hai fatto tu, stiamo vivendo un periodo, io lo chiamo un periodo camaleontico, un periodo particolare. Per quale motivo? Perché molte volte quello che insomma si vede per strada, insomma le relazioni umane che hai con la cittadinanza, a volte non fanno nemmeno tanto presagire queste situazioni di disagio sociale. Però dal punto di vista professionale alla domanda che mi hai fatto è chiaro che è un periodo di crisi, un periodo dove la mancanza di lavoro è, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, soprattutto per questi territori che vivono prevalentemente d'estate, su lavori turistici, lavoro legato al comparto turistico. Manca poi quella fetta degli otto mesi al di fuori del lavoro estivo, mancano quegli otto mesi durante il periodo invernale dove la gente fa fatica perché nella maggior parte dei casi ci troviamo, se si è fortunati, in nuclei familiari dove magari il padre, il papà, il figlio più grande insomma vanno a lavorare d'estate e quindi producono questo reddito e in più percepiscono poi nel periodo invernale un po' di disoccupazione. Nella peggiori invece delle ipotesi ci troviamo in famiglie dove sono monoredditi, dove c'è soltanto magari il papà che va a lavorare nel periodo estivo e che percepisce quel minimo di disoccupazione. Come vedo la situazione? Quindi non basta, è una risposta insufficiente da tutti i punti di vista. Voi perché giustamente gli stipendi sono stipendi anche, come dire, abbastanza bassi, non sono stipendi tali da poter, come dire, dici vabbè mi metto qualcosa da parte per poi vivere e nello stesso tempo nemmeno come Stato sociale in sé lo Stato appunto risponde in una maniera non significativa, che non incide su niente. Allora basti pensare solo a una cosa Gianfranco, che negli anni passati, fino a quando poi è stata introdotta la nuova Naspi, la disoccupazione era calcolata in modo diverso, cioè vi spiego meglio, negli anni passati chi riusciva a lavorare sei mesi andava con la disoccupazione ordinaria e percepiva sei mensilità. Perfetto. Ok, e quindi in un certo qual modo si copriva l'anno. Un setto, ottocent'euro al mese. Un setto, ottocent'euro al mese, che per i nostri territori, voglio dire, sono una mano del cielo. Era già qualcosa. Chiaramente parliamo sempre di redditi soddisfacenti sotto il profilo della sopravvivenza e della sussistenza delle cose basitarie. No, se noi parliamo già di una famiglia che magari manda il figlio a scuola, vallo della Lucania, faccio per dire, deve pagare l'abbonamento del pullman, i libri, non so, eccetera, già comunque va in difficoltà. Ebbè è chiaro, mantenere poi i figli a scuola, all'università, è chiaro che costa tantissimo perché purtroppo questa è la situazione attuale. Ma come dicevo prima, il fatto che è cambiato il modo di regolamento e la nuova disoccupazione, oggi ci troviamo nella condizione che chi lavora per esempio 4 mesi percepisce 2 mesi di disoccupazione, chi invece lavora 6 mesi ne percepisce 3, è sempre la metà delle settimane contributive. Chiaramente pure questo ha dato ovviamente il suo significato e la sua, diciamo, ha aggravato ancora di più la situazione, questo è il punto di vista per quanto riguarda ovviamente gli ammortizzatori sociali. Ma detto questo, il problema secondo me è anche un altro, cioè il problema vero è che purtroppo non si sono mai create le condizioni per far sì che questo paese, soprattutto il nostro paese non viva soltanto di turismo, perché è vero il turismo c'è, forse è la prima economia, anzi non forse sicuramente è la prima economia del nostro comune, ma bisognava oltre a questo collegare altri aspetti lavorativi. una politica del lavoro fatta in una direzione, una direzione di poter sfruttare tutte le risorse che offre il territorio. certamente, ho capito, ma mi interessava anche a capire un'altra situazione Mimmo, ora c'è questo disagio sociale percepibile, c'è una fetta di popolazione che soprattutto riguarda quella che fa i lavori estivi, chiaramente chi ha un stipendio fisso tipo professore eccetera, la crisi la subiscono un po' meno, poi dipende da situazione a situazione, la domanda è questa, ora i comuni, per esempio il Comune di Camerota, di fronte a questo tipo di difficoltà ha creato magari degli ammortizzatori propri, un modo per dare una mano a queste famiglie, una mano in più, oltre a quello che già c'è, una mano, per esempio, non so, magari non facendo pagare un abbonamento ai figli, magari l'asilo nido, ecco, le politiche sociali in questo Comune, come sono messe? Allora, le politiche sociali in questo Comune, ovviamente, stiamo parlando di un Comune che è amministrato da una squadra giovane alla prima esperienza e che chiaramente si è insediato è stata quasi da un anno e quindi ancora, diciamo, presto. Qualcosina si è mossa, però insomma bisogna, non basta perché quando si parla di sociale, quando si parla di disagio sociale non ci sono contrapposizioni politiche, non ci sono situazioni veramente legate alla politica, perché lì le dobbiamo abbracciare tutti, chi per il proprio culo, chi per le proprie possibilità, dobbiamo essere uniti e compatti a tutelare le fasce deboli. Qualcosina, dicevo, è stata fatta nel senso che da notizie ho preso, perché poi tra l'altro si fa anche un po' fatica a capire chi è il referente delle politiche sociali. Quindi, dicevo, qualcosina è stata fatta, ho saputo per esempio che è stata fatta un'operazione per quanto riguarda i bolini della mensa, quindi che per chi ha un determinato reddito ISE, il Comune gli va incontro dandogli l'esenzione ovviamente del ticket mensa. Poi so che è stato fatto, il Comune di Camerota ha aderito al Banco Alimentare, ma... Quindi sul ticket mensa hanno cercato di venire incontro alle famiglie un po' più disagiate, no? Che ci sono, quindi che magari non pagano... Sì, sono esentati dal pagamento perché hanno stabilito un tot di capitale per queste situazioni, no? Ho capito. E quindi il Comune sta dando una mano sotto questo punto di vista, ovviamente poi ritornando al discorso di prima, il referente del ramo all'istruzione è l'assessore Vincenza Perazzo e quindi si sta, diciamo, attivando... Insieme alle politiche sociali, però manca il resto, manca il resto, ancora non è sufficiente. Il piano di zona è praticamente... Il piano di zona è un problema, è un problema perché tra l'altro ho avuto modo insomma di intervistare, interrogare anche chi in passato ha svolto questo ruolo di assessore alle politiche sociali. I piani di zona si sa che vivono anche loro un momento particolare, soprattutto nel piano di zona di Sapri, sì. 9, numero 9, sì. Esatto. Però bisogna insomma essere presenti, bisogna ottemperare gli impegni che ovviamente il regolamento prevede per quanto riguarda il piano di zona, ma soprattutto essere presenti per poter insomma recriminare di avere dei servizi, di avere delle opportunità. Certo. Dicevo come prima, è stato fatto anche l'adesione al Banco Alimentare che è una cosa positiva, anche se su questo aspetto, ma non vuole essere la mia una polemica, ma è semplicemente quello che mi riportano insomma i cittadini e le persone che vengono da me, c'è un po' di difficoltà a poter aderire al Banco Alimentare perché, Gianfranco, il disagio sociale, oltre all'aspetto insomma veramente materiale… Il fatto che manca il piatto di pasta, ma non è solo questo, ma non è solo questo, è una dignità insomma che va difesa, va tutelata. Che va difesa è che in passato, per esempio, questo ruolo lo svolgevano i sacerdoti, perché ad oggi io so per esperienza che il vero ammortizzatore sociale di questo paese lo sta facendo la Chiesa. Sono i sacerdoti, come istituzione, come argine alla povertà è vero. Quindi con l'aiuto di Don Gianni, Don Antonio, Don Andrea, tutti i sacerdoti che con tanti sacrifici perché anche per loro è un momento particolare, però in un modo molto delicato e con molta sensibilità riescono a… Quindi insomma sto Banco Alimentare che c'è nel Comune di Camerota funziona poco e male. Funziona poco e male, io non ho ovviamente i dati, quindi non ti posso rispondere sui dati, però ti posso raccontare un episodio che ho vissuto che mi lascia un po' perplesso. Io una mattina ero in Comune per ovviamente esplicare delle pratiche di lavoro e sentì una signora che chiese delle informazioni, ma che mi devo rivolgere per il Banco Alimentare, quindi per il pacco di… Sai, io ci rimasi un pochino perché chiaramente questa signora fece un grande atto di coraggio, perché molte volte il problema… Ti vergogni pure di… Ti vergogni, ma no, è che il problema del disagio sociale, caro Gianbranche, molte volte è anche quello di autoriconoscerlo. Come no, certo. Perché c'è una certa repulsione ad accettare, perché di fatto lo si vive come un fallimento, ma che così non è, perché sono delle condizioni che si creano nell'arco della vita e che possono succedere a tutti, quindi non bisogna in un certo qual modo avere vergogna di chiedere aiuto. Certo. Però… Chi dà l'aiuto però deve mantenere una correttezza e una privacy. No, ma io credo pure… È molto tatto. Ma credo pure che chi in questo momento lo stia facendo, è una persona, voglio dire, di tutto rispetto, una persona che sicuramente avrà come bagaglio suo di vita una grande sensibilità. Però io faccio un passaggio oltre, perché non è solo questo l'aspetto. Certo. Io faccio il passaggio che se oggi noi riusciamo con questa situazione ad aiutare 50 famiglie, perché ci sono 50 persone che hanno il coraggio di manifestare questo disagio. Ma, ritornando al discorso di prima, se utilizzassimo i sacerdoti, magari il coraggio verrebbe insomma… La gente sarebbe molto di più, ho capito il senso. Perché sai, quando vai da un sacerdote, chiaramente… E poi il disagio sociale si manifesta, ci sono gli alcolisti, quelli che si drogano. Esatto. Insomma, c'è diverso tipo, insomma. La solitudine, sono tanti gli aspetti che creano disagio, insomma. Un disagio sociale anche verso il gioco delle macchinette, che c'è tanta gente che si è rovinata così, eccetera. Quindi anche questo qua è un disagio. Però io mi interessa sapere anche un'altra situazione. Quindi, di fronte per esempio a creare lavoro, ecco. Allora, magari viene qualcuno da te, no? E ti viene a dire, dice, qua si risolve poi alla fine tutto quanto con una pensione, un accompagnamento, un qualcosa di questo genere, no? Però magari c'è gente che non lo vuole, vuole un lavoro. Come no? Ecco, e magari il comune che è quello che deve, come dire, interfacciarsi per primo su questi problemi, risposte magari ne dà poco. E non so, magari qualcuno in questo senso del comune di Camerota c'è. Allora, Gianfranco, hai colto proprio uno degli aspetti più importanti, perché mi stai dando l'occasione, insomma, di poter raccontare alcuni episodi che mi sono capitati, ovviamente, per lavoro. Ma sono diversi, sono stati almeno due o tre di ragazzi che sono venuti nel mio ufficio per chiedere informazioni. La cosa che mi ha colpito è che questi ragazzi, nonostante, voglio dire, avessero delle patologie tali da poter richiedere anche l'indennità di accompagnamento, no? Perché sai, le due indennità sono diverse, perché c'è l'indennità di invalidità civile e c'è l'indennità di accompagnamento. Quindi sono due, diciamo, aspetti diversi. Sicuramente. Quando questo ragazzo è venuto da me, mi ha detto proprio questi testuali parone. Dice, Mimmo, io non sono venuto qui per fare la domanda di accompagnamento. Io sono venuto qui perché ti voglio chiedere se c'è la possibilità, ti voglio chiedere se c'è la possibilità di potermi inserire in una graduatoria, in una graduatoria per avere un posto di lavoro. Ovviamente tenendo in considerazione tutte le mie difficoltà, nate dalle mie patologie che purtroppo ho, e quindi se c'era questa possibilità. E io ovviamente ho consigliato di fare il collocamento mirato. Perché vedi, caro Gianfranco, questo ragazzo mi ha lanciato un messaggio e, tra virgolette, mi ha anche dato una lezione di vita, che io la faccio mia, perché nonostante le sue difficoltà, nonostante il suo disagio fisico, chiedeva il lavoro e mi disse anche il perché. Non un'elemosina, perché veniva vista che lui attraverso il lavoro poi c'è un riscatto, parliamoci chiaro. Sì, ma anche per un altro motivo, perché quando poi si entra nel meccanismo, insomma, della domanda di accompagnamento, ovviamente viene tolta la macchina, il potere utilizzare la macchina, lui mi diceva io, non sia mai che mi riconoscessero invalido addirittura di dover aver bisogno di un accompagnamento, morirei il giorno dopo. Perché? Perché psicologicamente il fatto di dover stare a casa, insomma, di non poter essere autonomo, autosufficiente per le mie cose, aggrederebbe ancora di più la situazione. E quindi ho visto nei suoi occhi, ho visto la voglia di, con tutte le sue difficoltà, di voler si mettere in gioco, di voler dire io ci voglio provare. Allora in questo senso qua, magari il Comune non ha aderito alle borse lavoro? Esatto, le borse lavoro potrebbero essere una risposta valida, perché ovviamente dobbiamo sempre tenere in considerazione delle limitazioni che comunque hanno, perché è chiaro che ci vogliono quei lavori adatti, questo è ovvio. Ma ti dico pure di più, un suggerimento, se così possiamo chiamarlo, sarebbe anche quello di adottare delle misure per far sì che anche la classe imprenditoriale possa vedere questi ragazzi, queste, chiamiamole fasce deboli, un potenziale. Cioè, ad esempio si potrebbero aprire, come dire, un dialogo con i grossi imprenditori del posto, dove magari uno o due posti di lavoro vengono riservati a categorie di questo tipo. Anche privatamente, il Comune può magari dire a questi imprenditori, se tu aderisci a questo tipo di convenzione con il Comune, magari gli faccio risparmiare qualcosa sulla spazzatura, per esempio. Potrebbe essere anche questa. Su un'idea, anche questa qua, la lanciamo, mettiamola così. Anche perché Gianfranco, noi dobbiamo partire da un dato, che c'è una normativa che prevede questo, c'è una normativa nazionale che prevede questo. Però molte volte non viene rispettata, perché sai, se hai un tot dipendente, per ogni tot dipendente, devi avere per forza uno delle fasce deboli. Purtroppo non viene tenuto in considerazione. Allora io dico che questo dovrebbe fare l'ente, il Comune. Dovrebbe tendere una mano a questi ragazzi e con l'altra tenderla agli imprenditori e dire guarda, abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno di integrare anche queste persone. Questa è una cosa che, come dicevi tu, con il tuo pensiero potrebbe essere. Si creano delle soluzioni, perché basta avere anche un minimo di inventiva. Voglio dire, insomma, non è che bisogna andare a inventare chissà che cosa. Basta guardare in faccia la realtà e magari le soluzioni si trovano. Voglio fare un'ultima domanda, Mimmo. So che tu per un certo periodo sei stato anche militante nel Partito Democratico, tra le ultime elezioni hai scelto di appoggiare Libere e Uguali. Come dire, quindi il tuo impegno prosegue in questo senso. Come vedi, ecco, dato che la sinistra in generale, no? Si è ancora un senso questa parola. E' in grave difficoltà. Come pensi di dare una mano, di poter andare di nuovo verso un pensiero di sinistra, che poi parliamoci chiaro, uguaglianze, i diritti, sono stati un po' dimenticati, no? Si è guardato più ai salotti, magari, piuttosto a quelle che sono le radici della sinistra in Italia. Qui a Camerota, come la vede la situazione? Allora, a Camerota, per quanto riguarda, diciamo, la politica di sinistra, vedo che c'è un potenziale, vedo che c'è un potenziale perché del resto devo essere un po' più chiaro anche per spiegare il perché ho fatto questa scelta di sostenere Libere e Uguali. Io ho scelto di sostenere Libere e Uguali perché tutti quanti sanno che la mia storia, la storia anche della mia famiglia, è una storia che è stata sempre legata alla sinistra. Io questi valori li porto da quando ero bambino, li ho vissuti in casa e quindi faccio difficoltà a collogarmi diversamente. Ho scelto Libere e Uguali perché chiaramente ero un sibatizzante del PD, però ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute. Non mi sono piaciute perché io penso che bisogna tenere conto dei territori. È un leader che, insomma, si assume la responsabilità di fare delle scelte, diciamo, anche personali, francamente non tenendo conto di chi in questi anni ha rappresentato il PD nel territorio, ma non territorio ovviamente camerotano, ma nel basso cilentano, per avere una visione. Chiaramente io questa presa di posizione non l'ho gradita perché l'ho trovata poco democratica. Certo. Fermo restando che poi, insomma, il risultato elettorale poi ha dato una sentenza, no? Anche perché poi probabilmente Libere e Uguali è stato uno dei pochi a parlare di lavoro. Giusto. Esatto. E allora a questa situazione, a questa mia riflessione sul partito, ho fatto una scelta di programmi. Ho preso un po' tutti i programmi delle varie proposte politiche e in Libere e Uguali ho trovato quelle proposte che secondo me ho sempre, anche io, insomma, sostenuto, perché sono programmi, sono proposte legate dai valori di equità sociale, diritto allo studio, poi come dicevi tu, è l'unico partito che ha parlato di lavoro. Perché noi abbiamo avuto… Non parlano tutti di flat tax… Chi di flat tax, chi reddito di cittadinanza… Però anche se è reddito di cittadinanza, magari da un certo punto di vista è anche una cosa giusta, no? Però, alla fine, se non c'è il lavoro, facciamo a riaffitta. Esatto. Questo è. No, ma anche perché il primo articolo della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi, cioè, bisogna oggi, il nostro Paese ha bisogno di fare una politica seria sul lavoro, perché con il lavoro si dà dignità, con il lavoro si dà la garanzia di poter… Di libertà. Di libertà, ma si dà la garanzia di poter avere il diritto allo studio, il diritto alle cure. Poi Libero Uguali, per esempio, parlava di una sanità pubblica. Certo. Tra l'altro che nessuno ne ha parlato mai, no? Quindi… Esatto. E' un'altra situazione. Dici, magari… faccio un esempio, il Partito Democratico parlava di sanità pubblica gratis, era un passavanti, magari perdeva molto meno, che ne so. Poi ci sono state dinamiche, insomma… La vedo una situazione molto compromessa da quel punto di vista là. Ti ringrazio per questa intervista, ringrazio anche il Cilento TV e arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso. Grazie Gianfranco per avermi dato questo spazio. Volevo ricordare un evento il 6 aprile alle ore 10.30 presso l'Istituto Scolastico di Camerota. Si terrà la presentazione, la camurra bianca, riflessioni di un prete scomodono, di Don Luigi Merola. Io credo che questa sia… Quindi ci sarà Don Luigi Merola… Si, ci sarà Don Luigi Merola a presentare il suo libro. Sarà arrivato con i relatori che saranno Don Gianni Citro e Vincenzo Rubano. Lui è un Vincenzo Rubano, in questo momento è addirittura fondatore della fondazione La Voce dei Criatori. E siccome è un ragazzo del posto, verrà a dare anche lui la sua testimonianza, a spiegare anche il perché è stato vicino a questo progetto. Quindi credo che è un'iniziativa anche questa sociale… Quindi rivediamo la data, il 6 aprile alle ore 10.30 a Camerota, alle scuole medie. Presso l'Istituto Scolastico di Camerota. Grazie. Grazie e buona serata.